Un'emorragia inarrestabile, quella di giovani e talenti in fuga dalla Puglia. Il fenomeno abbinato alla diminuzione delle nascite sta portando a un progressivo e inesorabile spopolamento. A certificarlo ancora una volta sono i dati riportati dal censimento permanente della popolazione pubblicato dall'Istat nei giorni scorsi e riferito al 31 dicembre 2021. Negli ultimi dieci anni la popolazione pugliese è diminuita del 3,2% e conta oggi poco più di 3 milioni e 900 mila abitanti. La provincia nella quale è stata registrata la diminuzione più alta è il Brindisino dove dal 2011 al 2021 la popolazione è calata del 5%. Il fenomeno è stato progressivo e con maggiore concentrazione negli ultimi due anni. Osservando nel dettaglio la situazione dei singoli comuni ci si accorge che tra il 2020 e il 2021 Bari ha perso 3.374 residenti e Foggia 3.366 il che li rende i comuni più colpiti. Soltanto un comune su tre non ha subito perdite di popolazione e tra questi non è presente alcun capoluogo di provincia. In totale quindi sono 174 i comuni in cui la popolazione è diminuita. Le perdite più consistenti come detto si registrano a Bari, Taranto e Foggia. Tra i piccoli comuni quelli con maggiore rischio di spopolamento sono Poggiorsini dove negli ultimi due anni c'è stata una diminuzione della popolazione del 3,6% e Celle di San Vito che ha perso il 3,3% della popolazione. Sul fronte occupazionale ancora secondo l'Istat la Puglia presenta dati non conformi al panorama nazionale. Negli ultimi dieci anni infatti i lavoratori sono diminuiti di 45.000 unità, vale a dire del 2,9% attestandosi a poco più di 1,5 milioni. Nel 2021 infatti il tasso di occupazione è stato del 39%, quasi 7 punti percentuali sotto il valore medio italiano. Va peggio per le donne, la percentuale di occupate infatti al di sotto della media nazionale, 28,8% quella della Puglia contro il 37,9% dell'Italia.